La Germania si prepara un afflusso record di migranti, si prevedono 400.000 richieste d'asilo per il 2015, il doppio rispetto all'anno scorso. Le cifre sono state fornite in una riunione a Berlino. La cancelliera Angela Merkel ha detto che difficilmente la Germania riuscirà a sottrarsi a soluzioni solidali con l'attribuzione di quote di rifugiati ai singoli paesi. Una manifestazione ha accompagnato il vertice.